...2...3... ...mai... ...i...3... Bene, il prossimo brano dove presenteranno i nostri bufiari dei nostri trovoni del gruppo che sono sempre qui dietro di noi al sax del nostro Simone e alla tromba il nostro Cesarino vi faranno ascoltare un bellissimo successo un grande grande ricamato di 9 anni fa un successo circa di 7-8 anni fa se non sbaglio un brano un pochettino più orientato non si sia per voi sognò androlus vai grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.